Coach Massimo Barbolini, successo 3-1 nella gara 1 dei quarti di finale contro la Megabox ondulati del Savio Valle Foglia, un commento? Partita che non abbiamo giocato bene, i primi due set anche che abbiamo vinto in maniera abbastanza netta, ci siamo tirati fuori soprattutto grazie a giri di battuta, non tanto al nostro gioco. Dopo alla fine bravi le ragazze a lottare, ma sabato dobbiamo sicuramente giocare in un'altra maniera, affrontare la partita in un'altra maniera, perché se no sarà difficile, anche perché mi sembra che questi play-off, da quello che sento i risultati, stanno dimostrando che non sono mai stati così equilibrati, per cui pensiamo a fare meglio, a preparare bene questa partita, stiamo preparando bene le partite, oggi non abbiamo giocato tanto bene, vediamo sabato di fare meglio, anche perché loro saranno un'altra squadra. Io volevo chiedere semplicemente un giudizio su questa nuova giocatrice polacca, che giocatrice è e quanto può aiutare il gruppo? Può aiutare, è una giocatrice che ha buone qualità in seconda linea, per cui cercheremo di fare in modo che possa aiutarci in queste situazioni, magari una difesa, una ricezione. E' pronta comunque per essere inserita nel processo anche... Sta bene fisicamente, sta bene fisicamente, adesso vedremo un po' tecnicamente cosa può dare. Grazie, grazie a voi.